Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Ma domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio. Adesso, questo posto cos'è non? Chi sono io? Salve! E cos'è questo posto? Dove mi trovo? Ma si è cercata. Non ne ho idea. Allora, qui siamo a Aweb, un e-commerce che offre servizi di internet di tutti i tipi. Qual è il tuo problema? Dunque, il mio problema è che non mi ricordo. Ah sì, che non mi ricordo nulla. Va bene, ho proprio quello che fa per lei. Bsms è la piattaforma con la quale puoi inviare messaggi, gestire le sue rubriche e personalizzarle. Così non le sfuggirà più nulla. Ma che meraviglia! Altrimenti, Aweb le dà anche la possibilità di avere uno spazio sul web dove poter descrivere le proprie giornate attraverso un blog. Vedrà che la memoria le tornerà in un battibaleno. Ah, non vedo l'ora. Vede per esempio questo nostro cliente? Ah sì. Qualche consiglio, uno spazio tutto suo, è riuscito a creare un business spaventoso di caramelle per la gola. Ah, davvero? Scusi, io e lei non ci conosciamo? No. Non si ricorda di me? No. Questa non se la ricorda? No. La pillola rossa? Allora, ti do la pillola azzurra! Come se la rossa? Bravo! Te la do io la pillola! Dove sono? E chi sono? E lei chi è a Misur? Ma noi ci conosciamo.